Prendono a prestito il gioco dell'oca nel quale si può tornare sempre alla casella di partenza per raccontare quanto accaduto con la pista ciclabile della Pineta di Pescara. Il centrosinistra, capitanato dal consigliere regionale ed ex vice sindaco del capoluogo adriatico Antonio Blasioli, torna ad attaccare la giunta Masci sulla pista ciclabile della Pineta, errata e poi cancellata con un nuovo asfalto dopo l'ammissione dell'errore da parte di Palazzo di Città. Siamo una città fantastica, spendiamo 250.000 euro per realizzare un raccordo di piste ciclabili tra l'Università e la Riviera, quindi realizzando una pista ciclabile in sede protetta, come voleva il centrosinistra nel suo progetto approvato su Via Lale della Pineta, spendiamo 250.000 euro con tanti atti, in alcuni casi anche mancanti in questo lavoro, per tornare alla parte iniziale, un gioco dell'oca che pagano i cittadini di Pescara, in cui la giunta e il sindaco Masci scelgono e prendono la casella 58, cioè torna al punto di partenza. Uno sbaglio costato circa 30.000 euro nella prima variante, come si legge dalla ricostruzione documentale fatta dal centrosinistra, qui vanno aggiunte le altre somme, racconta Blasioli, per la riparazione dell'asfalto, del quale però mancherebbe l'atto autorizzativo. Non l'ha voluto il RUP, non l'ha voluto il direttore dei lavori, non l'ha voluto la giunta. L'unico atto che ormai dobbiamo ritenere sia un atto tipico della nuova amministrazione di Pescara e l'annuncio sui social Ubi e Torbi da parte del sindaco di Pescara. Può configurare un danno erariale per questa opera? Guardi, io sono abituato a fare le mie rimostranze da un punto di vista politico, ma è del tutto evidente che questa procedura va vista fino alla fine. Anche le promesse non saranno soldi spesi da pantalone, cioè dai cittadini di Pescara, noi le vogliamo vedere negli atti. Ad oggi, chi ha modificato quei lavori e li ha riportati nella situazione iniziale, non si sa. Non c'è nessun atto. Chi li pagherà? Se li pagherà il progettista, che tra l'altro ha l'unica colpa di aver fatto quello che la Lega e Masci gli hanno chiesto, sarà un altro danno ai danni della città.